Buongiorno, sono il professor Walter Moro, presidente del CIDI di Milano, che è un'associazione professionale di dirigenti, di insegnanti, che oltre da 40 anni opera sul terreno della formazione, della ricerca didattica, dell'aggiornamento. In particolare il CIDI ha una lunga esperienza di preparazione ai concorsi, una lunga esperienza di successi, quindi oggi vogliamo presentarvi un'iniziativa molto importante, che riguarda il concorso ordinario per la prova orale della scuola dell'infanzia, della scuola primaria del sostegno. L'incontro che il CIDI organizza è previsto per martedì 25 gennaio a partire dall'ora 17 ed è incentrato soprattutto sul presentare come ci si prepara alla prova orale, evidenziando alcuni buoni consigli. In particolare vogliamo affrontare con voi i punti centrali di una buona progettazione, perché la prova orale, come sapete, è incentrata sulla progettazione di un'attività, di un'attività didattica, che può essere una lezione, una unità di apprendimento. Quindi l'incontro vuol mettere in evidenza quali sono i punti centrali più significativi di questa progettazione. Un secondo punto che vogliamo affrontare nell'incontro riguarda l'interlocuzione della lingua inglese, perché sono previsti ben 20 punti nella valutazione, quindi riteniamo molto importante che qui dare dei suggerimenti. Un terzo punto riguarda i criteri di valutazione della prova orale, riteniamo molto importante mettere in evidenza gli indicatori, i criteri, perché questo può essere di grande aiuto soprattutto per la autovalutazione, cioè mi preparo ma poi devo attivare questi criteri per capire a che livello è la mia preparazione. Quindi sono questi tre aspetti che vorremmo affrontare con più voci nell'incontro che abbiamo previsto in modalità webinar gratuito per martedì 25 a partire dalle ore 17. Trovate il nostro programma nella piattaforma del CD Milano che è www.cdmi.it, da lì potete scaricare il programma e anche la modalità di iscrizione. Quindi vi aspettiamo, è un incontro di formazione, un incontro che vi aiuta a migliorare le vostre competenze per affrontare con successo la prova orale, quindi l'ICD vi aspetta.